Progetto Sandali Caffè Tracciabili, Guatemala. Guatemala Strictly Hard Been, Atitlan Alto Rifugio è il suo nome. Siamo appunto nella regione di Atitlan, località Agua Escondida, a un'altitudine che supera i 2200 metri, quindi estremamente elevato. Il nome del coltivatore è Joan Pira, la piantagione, come deriva dal suo nome, è Alto Rifugio. La coltivazione è esattamente e completamente in ombra. Siamo con delle varietà interessanti, ce ne sono quattro. Bourbon, tipica, Catuai e Caturra. Il periodo di raccolta va da dicembre a febbraio, tra le altre cose il caffè viene poi inserito in cartoni, all'interno dei quali ci sono due pacchi da 15 kg ciascuno, quindi cartoni da 30 kg e i due pacchi sono messi sotto vuoto per mantenere il più lungo possibile la freschezza di questo caffè. Caffè che viene lavato con il sistema classico e tradizionale e con la fermentazione in vasca e adesso non ci rimane anche andarlo a approfondire la sua conoscenza. Ed ecco l'aspetto del Guatemala a Titlán Alto Rifugio. Sicuramente una bella lavorazione, un caffè aramica lavato e anche questo lo si evidenzia soprattutto nella tostatura dove il taglio bianco risulta molto evidente. Lavorazione omogenea, un bel crivello, siamo circa l'85-87% di un crivello più 16, dove all'interno del quale circa il 50% è superiore al crivello 17. Interessante notare come sviluppi durante la tostatura. Guatemala a Titlán Alto Rifugio, fatto per espresso. Il profumo è decisamente importante. La crema la vedo abbastanza bene, nonostante sia un aramica lavato, anzi direi assolutamente importante, ma ciò che mi colpisce subito è il profumo. A livello effettivo frutta, frutta di bosco, frutta dolce, frutta in polpa, frutta. Decidamente è il profumo di qualcosa di interessante, di importante. Vediamo l'analisi effettiva di cosa ci dice. La corposità, devo dire, è assolutamente importante. Supportata poi da una pastosità, potrei definire dolce, potrei definirla di frutta, frutta di bosco, frutti rossi, quindi mirtilli, lamponi, fragoline, che però vengono poi assolutamente, come dire, accompagnati da delle frutta più dolce. Potrebbero essere ciliegie, albicocche. Vediamo un attimino la tazzina dolce che cosa ci porta? Albicocche. Albicocche e ciliegie. Quindi c'è questo mix tra frutta di bosco, frutta quindi leggermente acidula, e le ciliegie e l'albicocche assolutamente importanti, assolutamente potrei definire intriganti. Beh, il caffè che è bevuto da solo ha assolutamente una sua logica. È un caffè che fa tazza, nella maniera più assoluta, e sicuramente anche questo direi polivalente. Lo mettiamo in qualsiasi miscela e ne arricchisce. Quindi è soltanto una questione di come andarlo a poi assemblare con il resto. Però bevuto da solo, ripetisco, fa assolutamente tazza. Interessante poi, nel retrogusto, che al solito caramello, una solita avena di cacao, fuoriesce un qualcosa di più amabile, la mela disidratata. Grande caffè anche questo. Buon caffè!